La cosa bella che si impara nello sport e che dobbiamo insegnare ai ragazzi è avere degli obiettivi. Con queste parole il delegato regionale del CONI Oreste Peri ha salutato i ragazzi che sono stati premiati nella Sala delle Acque del BIM per i loro meriti sportivi. Da un lato gli studenti atleti, destinatari di un assegno di 1000 euro per essersi distinti nelle loro discipline sportive, non sempre facili da conciliare con gli studi. Dall'altro i campioni che hanno invece ottenuto la stella al merito del Comitato Olimpico Nazionale Italiano per aver raggiunto risultati in campo internazionale. Ad ottenere il buono valore del BIM Samantha Bertolina per l'atletica e lo scialpinismo, Rebecca Bettini per la pallavolo, Giorgia Bresciani per lo short track, Mattia Castellazzi per il getto del peso, i giovanissimi Emanuele Cavazzi per il karting e Giuseppe Fiorenzi per il kart, Merai Jacomelli per l'atletica, Sofia Marinelli per il short track, Niccolò Martinelli per l'allarti marziani, Marika Mascherona per lo scialpino, Letizia Motalli per la mountain bike, Andrea Prandi per la corse montagna, Camilla Ricetti per l'atletica leggera, Marcella Sertori per il karate e Anna Speckenhausel per lo short track. Il fatto che i nostri ragazzi siano stati premiati per tantissime discipline sportive, la dice lunga su come sia importante incentivare i giovani a praticare sport, ha commentato il presidente del BIM Carla Cioccarelli, ricordando che Rente ha già avviato un altro intervento, questa volta per sostenere chi segue gli studi musicali presso la civica scuola di Sondrio, lanciato per la prima volta lo scorso anno. A dimostrazione del livello raggiunto nella precedente edizione ci hanno pensato le vincitrici del concorso, Greta Moroni, Clelia Di Capita, Giada Pizzoccaro e Silvere Stifo che si sono esibite davanti al pubblico. Dal BIM si è poi passati alle atleti che hanno invece ottenuto la medaglia al merito per il 2015, bronzo per il pilota Romano Belfiore, la ginnasta Veronica Bertolini, Rudy Biancotti e per il freestyle di Giulia Silvestri. L'argento è invece finito al collo dello snowboarder Maurizio Bormonini, del canoista Giorgio Dall'Agostino, dello scialpinista Luca Pfeiffer, di Linda Maffino ed Alessandra Massimino per il rafting e al terzetto di Lucia Peretti, Arianna Valcepina ed Elena Viviani per lo short track. Tre invece le medaglie d'oro al valore atletico, conquistate dalla ginnasta Camilla Patriarca e dai due scialpinisti Robert Antonioni e Michele Boscacci. Sono felicissima di questo premio consegnato a Midalconi questa sera, è un grandissimo onore poter essere qui presente a ritirarlo di persona, ci tenevo davvero e infatti ho cercato in tutti i modi di esserci nonostante i vari impegni. Sono molto contenta e speriamo anche l'anno prossimo con i risultati del 2016 di ricevere un buon premio. Una bella soddisfazione prima di partire per la nuova stagione a venire, quindi sono sempre motivazioni in più che fanno andare forte le gambe e anche il cuore. Grazie al CONI per sostenerci nel nostro lavoro e grazie al BIM che ci sostiene sempre, anche noi atleti dello scialpinismo. L'elenco dei premiati è stato completato dalle targhe d'argento al merito sportivo, assegnati ai vari club, in primis al BIM, il bacino brifromontano dell'Adda, per il continuo sostegno nei confronti dello sport valtellinese. I restanti conferimenti sono stati dati al Valtellina Golf Club, liceo artistico Ferrari Morvegno, Funivia Albernina, Associazione Calcio Mese ed Adda Viva Indomita Valtellina River.